Sia i vaccini dai pediatri e dagli odontoiatri, quanto ha stabilito il Dipartimento Salute della Regione Puglia che nelle scorse ore ha incontrato le organizzazioni rappresentative dei pediatri di libera scelta degli specialisti ambulatoriali interni e degli odontoiatri. Obiettivo dell'incontro è dare attuazione anche in Puglia ai protocolli sottoscritti dal Ministero con le stesse organizzazioni a livello nazionale per coinvolgere queste figure professionali nel piano nazionale vaccini. Tutte le organizzazioni, annuncia il Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia Vito Montanaro hanno dato la loro disponibilità ad affiancare la Regione nell'attuazione del piano vaccinale offrendo la possibilità di effettuare i vaccini negli studi convenzionati, ovvero gli specialisti, nei poliambulatori, i dentisti prevalentemente negli hub provinciali. È ovvio che in casi particolari la disponibilità è quella di effettuare i vaccini anche nei loro studi professionali. Ora la Regione sta accogliendo le adesioni su base volontaria. Coloro che sono interessati potranno comunicarlo alle ASL e agli ordini dei medici. L'intesa tra Dipartimento Salute e Sindacati è quella di riaggiornarsi entro i primi giorni di aprile per acquisire tutte le adesioni e trasmettere gli elenchi alle ASL e ai Dipartimenti di Prevenzione affinché quanto prima si possa utilizzare nelle vaccinazioni questo ulteriore contingente di capitale umano. Grazie a tutti.